Signori benvenuti in una nuova puntata della Delivery Inc Raga ne sto registrando una dietro l'altra perché mi sto divertendo come un pazzo a farle Infatti tipo ho mollato per un attimo, per un attimo ragazzi come registrazioni La Desert Craft e la Let's Technique Anche perché raga in quelle siamo già estremamente Vabbè diciamo nella Desert Craft ma nella Let's Technique ancora no Stiamo estremamente OP e quindi si potremmo tranquillamente aspettare Ragazzotti ieri nella puntata precedente abbiamo raggiunto finalmente l'obiettivo di fare Di ottenere un controller della Refined Cosa che è abbastanza utile perché comunque con la Refined possiamo collegare innanzitutto Un bel esternal storage lì e avere tutto in una unica zona Ed è bellissimo ed è fantasticissimo Oltre a quello, sta tornando il drone penso, ok Oltre a quello abbiamo ottenuto nuove quest da fare Ovviamente le accettiamo tutte Possiamo prendere la Waystone adesso, non che ci serva più di tanto Perché adesso non me può fregare di meno Più le notte, qua vediamo tutte le missioni che praticamente dovremo fare Abbiamo Latex da fare, Lonei che Lonei non penso sia un problema E il Bamboo Mat che si ottiene dal Bamboo Ma io il Bamboo mi sembra di averlo già ottenuto Mi sembra Non è così Però se non erro l'avevo trovato, avevo trovato la foresta da qualche parte Se non erro Era proprio vicino Dovrebbe essere qui In teoria Proviamo a teletrasportarci così a cazzo di cane Sì eccolo là E frizza ovviamente Perché Minecraft, almeno nel mio computer È un po' un problematico diciamo Allora Nel frattempo Cioè usiamo magari tipo la Wayminer per il momento Ma poi lo andremo a farmare magari off camera Con l'Hopper Bonsai Pot Perfetto Vediamo quanto ne ho 64 Sì Facciamo un altro stacchino Il Bamboo Mazz Vuole Allora non so se Aspetta un attimo Allora ne vuole Ne fai due Però da 5 Bamboo Vediamo quanti ne voleva però La missione Nel caso l'accettassimo Ah ne vuoi 16 Quindi dovremmo esserci raga Dovremmo già esserci con la prima missione Così almeno iniziamo a fare un po' di miscellanea Come piace a me Allora 16 Così ne facciamo 10 Vabbè stick Non è un problema farne Facciamo così E così E 16 Thank you so much Poi da qua Recuperiamo Dove 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 Sono perso di vista Forse sono qui dentro Ok sono qui dentro Poi legna Prendiamo subito un bel Cardboard Di livello 1 Thank you so much Mettiamo questi 16 dentro E iniziamo a mandare Il bellissimo drone Bim Vai drone Droneggia Vai a droneggiare Da un'altra parte Allora L'ONEI Ne abbiamo tanto Abbiamo 11k di ONEI Quindi effettivamente Non dovrebbe essere un problema Ma attraverso il magma crucible Dovremmo ottenere Per l'appunto Allora Se ne vuoi così poco Tieni Riprenditi questi Bamboo sled Bamboo sled Bamboo sled Qua abbiamo due pacchi Li apriremo subito Quattro Milibucket Quattro mila Milibucket Di Coso Allora Vediamo Dove ho buttato Il magma crucible Magma crucible Eccolo qua Bim E bim Ok Quindi Per fare quello Abbiamo bisogno Della tank Probabilmente Dobbiamo prendere La delivery Barrel tier 1 Milibucket No Tier 2 Quattro mila Milibucket Ok Quindi vuole Il barrel di livello 1 Più Il ferro Che Non è assolutamente Un problema Allora Legna E poi il ferro Che Ok Ragazzi Dobbiamo fare Allora La refined Ve la schippo Ragazzi Ve lo faccio Off camera Non c'è bisogno Che vediate di nuovo Tutta la refined Per l'ennesima volta Tutte le cose Della refined Senza motivo Quindi Andiamo a fare Subito Un bel secchiellozzo Thank you so much Un barrel di livello 1 E infine Un barrel di livello 2 Ora Io posso riempirti Come un secchio No No Vero Ok Quindi probabilmente Ti devo mandare le cose Credo Tramite un fluid pipe Magari Facciamo così Qua Possiamo dirgli Fluidi In modo che non si attacchi Perfetto Vediamo se me lo manda in automatico Ci ho sperato Ragazzi Però No Il gioco ha detto no Bim Vediamo Thank you so much Thank you so much Vediamo se ho nei 4000 mini bucket Vai drone Vai a droneggiare da un'altra parte Perfetto Biofuel Ora il biofuel vuole il bio reactor Della Industrial Foregoing Così come Ovviamente Il latex Vuole altra roba Cioè Il fluid extractor Eccetera Eccetera Ma raga Calma 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 Non c'è bisogno Di affrettare i tempi Perché A parte il fatto Che abbiamo due pacchi Un jukebox Un drone Un altro drone Con LOL JK Ma ci ha schiamato Sto figlio Di put Vabbè Ci abbiamo un altro drone Raga Così almeno Poi faremo comunque L'upgrade Eccetera Eccetera Faremo anche Magari un po' di abbellimento Ragazzi In futuro Vedremo Io sono ancora Un po' curioso Di sapere Perché è spawnata Quell'orda di zombie L'altra volta Sono molto curioso Di sapere il perché Comunque Abbiamo da fare Latex Quindi adesso Per forza di cose Dobbiamo fare Il fluid Extractor Della Manufactory Per fare questo Abbiamo bisogno Di legna Redstone E ferro Poi un pistone Ferro Oro Eccetera Eccetera Raga Ma Mi sa che vi Schippo un po' di Refined E io me la faccio Off camera E abbiamo E facciamo Il storage In fondo Lo mettiamo in fondo Con tutti i cable Eccetera Eccetera Ci vediamo più tardi Beh ve l'ho detto Ragazzi Me la sarei Sturata Tutta off camera Assolutamente Vi ho risparmiato Tutto questo Tutta questa Faticaccia Ovviamente Abbiamo Una scheda Da 16 E una da 4 Che per il momento Ragazzotti Va più che bene Anche perché Non abbiamo Tutta sta gran Quantità di oggetti Da mettere All'interno Poi la maggior parte Degli oggetti Ragazzi Ce li abbiamo Nei drawer Quindi Sì Abbastanza bene Diciamo L'Infinium Furnace La piazzerei Qui Qui vicino Quanto siamo di Voglia 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 Non è Non è un problema Facciamo così Distruggiamo tutte le chest E mettiamo tutto qui dentro Così quando Dobbiamo prendere qualcosa Ce l'abbiamo Finalmente Abbiamo la Refined Poi Ovviamente Piano piano Raga Elimineremo Quello che Non ci serve Bim 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 Perfetto E infine L'ultima chest Bim Oh Ovviamente Alcune farm Raga Resteranno fuori All' di fuori Della Refined Tipo quella Della Sugarcane Ma non è un problema Cioè In realtà possiamo Tranquillamente Andare a mettere Che ne so Allora A parte il fatto che Ecco Sì Effettivamente Questi buchi Mi stanno Un po' Sulle balle Una Una spiegazione Giusto o veloce Per trovare gli slime Ragazzi Non sono andato A cercare gli slime Ma avevamo un sacco Di magma block I magma block Con l'unpacking die Ora vediamo Se riesco a trovare Il crafting in fretta Vabbè Ve lo cerco da qua Magma block Con l'unpacking die Praticamente Ci da il magma cream Con il magma cream All'interno Del centrifugal separator Possiamo fare Le slime Ottenere le slime E le blades powder Quindi in questo modo Praticamente Stiamo ottenendo Tutte le slime Che ci servono Cioè Non tutte e tutte Però diciamo Che la maggior parte E questo abbiamo Ovviamente L'esterno storage Buttato Nella controller Della Drowers Quindi là Dove ci sono Tutti i materiali Quindi siamo Abbastanza Messi Bene Tra l'altro Abbiamo Un bel po' Di spazio Adesso Very very good Molto più pulito Molto più ordinato Tutti i macchinari Buttati così Va bene Poi andremo Comunque a sistemare Anche i macchinari Non lascerò Tutto così Quindi detto ciò Dovevamo fare Il latex Quindi dovevamo fare Il fluid extractor Della Industrial foregoing Quindi per fare questo Abbiamo bisogno Di Quattro Sì Sono quattro Dai Non andiamo A esagerare E farne Anzi Vabbè Però ne devo fare Altri Oh Cosa ho finito La legna Non è Non è vero mai Pt Quanti ne ho fatti Tre Facciamo così L'ultimo Thank you so much E poi facciamo così Uno Due Tre Quattro Ah Very good Diventa Cioè Arriva la pioggia Ma io ovviamente Evito Con tutto il cuore Di Ma questa farm La lasciamo O la togliamo Effettivamente Le api sono migliori Quindi Diciamo che magari Recupero Tutto il ferro Che mi ha dato Questa farm E questo Lo andiamo a buttare Magari Nella Nella cosa Nella refined Ok Facciamo un po' di spazio Qui vicino Perfetto Thank you so much Poi andiamo a piazzare Fluid extractor Uno Due Tre E quattro Legno migliore E la caccia Raga ovviamente Cioè Industrial Foray going Non la spacchetteremo In questo mod pack Assolutamente Non mi interessa Una cosa del genere Andiamo a prendere The fluid Pipe La Anche la wrench Grazie Infine Un bel Una bella Tank No anzi Guardiamo Quanti ne voleva Voleva 2 milibucket Cazzo Però Delivery Mi sa che c'era Direttamente Quello da 4 Vero Per questo vale 1 Va da 1 Che fastidio Cazzo Mamma mia Vabbè Comunque Dovremmo fare Quello di livello 2 Non è un problema Però Più che altro Mi Mi da fastidio Il fatto che Non possa lasciare In automatico Andare le cose Vabbè Non è un problema Allora 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 Possiamo fare Tank Non ho una tank Vabbè La facciamo subito Non è un problema Tank Thank you so much La mettiamo Dove la mettiamo? La mettiamo Qua Ok Poi Fluid pipe 1 2 3 4 5 Ovviamente Colleghiamo il tutto Svrencettiamo Qui 1 2 3 E 4 E 4 E ovviamente Lì in mezzo Ci mettiamo Un bel blocco Di arcaccia Ovviamente Possiamo mettere La cosa Fare in automatico In modo che Tipo lui Faccia La La latex In automatico Però A noi Adesso Non ci interessa Allora Vediamo se Mi avanza Un quantum Entangle Port La risposta No Vediamo se Posso Farlo Probabilmente C'ho Il rinforzo Dallo E buttati Qua Così 1 Ok Va bene Non importa Energy Pipe Non so Quanta energia Stiamo usando In realtà Non è che Ne abbia Infinita Quindi Dobbiamo stare Un attimino Attenti Vabbè Il quantum Entangle Porter Lo metterei Sotto Tanto per il momento Possiamo lasciare Che le cose Si facciano Manualmente Poi Ovviamente In futuro Andremo a piazzare Le cose In maniera Automatica Facciamo No Facciamo Così Poi Svrancete Qui Energia Output Output Così On Perfetto Quindi loro Dovrebbero Prendere L'energia E piano Piano Fare Cioè Fare Molto Più In fretta Comunque La Latex Cosa Che Comunque Ci Sperevamo Cioè Ci Auguravamo Noi Vediamo Quanto Ne abbiamo 330 Che sale Ok Perfetto Nel frattempo Darei un'occhiata Come si Crafta Il Reactor Qualcosa Reactor Il Bio Reactor A voi Una pt machine frame Quindi niente di Complicatissimo Dovremmo avere tutto Ci manca solo la Diamond gear Thank you E la plastica Per fare la plastica Ovviamente ci serve Latex processing unit Quindi abbiamo bisogno Di un water bucket Me lo levo subito Alle scatole Raga Questa cosa Perché così almeno Ce l'abbiamo Già Già Fatta Vediamo se No Non ho ancora Latex pronto Per fare questo Ok raga Taglio Ok raga Abbiamo ottenuto La dry rubber Per poter fare La plastica E quindi Poter fare Il Reactor Bio Reactor Dell'industrial Foregoing Perfetto Quindi buttiamo Qui dentro Dovremmo avere tutto L'unica cosa Che ci manca È questo E un po' Di sugar Perfetto Bio Reactor Per noi Ora dove ti piazzo Io boh Vabbè Un macchinario Ovviamente messi A caso Allora Bio Reactor Tu vuoi le cose Biologiche Ovviamente Però non so Se effettivamente Vuoi tutte le cose Biologiche Tipo anche I shapling Sembrerebbe Di sì Quindi Ovviamente Avendo 64 Più di 64 Sapling Di Efficienza All'1% Ah ma Probabilmente Allora Probabilmente Se io gli metto Cose diverse Lui aumenta La sua efficienza Allora Popi Non ne vuoi Proviamo I semi E anche Il grass Se me li vuole Poi Bambù No Bambù No Questi No Vediamo Cosa abbiamo Abbiamo Netherworld Ma quello Non lo vorrei Sprecare Deathcap No Porca miseria Ma scusa Ma così Non me lo fai Fluidempi Perché scusa Water Ah ma vuoi L'acqua E che palle Bucket Mamma mia Sempre questa cosa strana Dell'acqua Che vuoi Sempre in mezzo alle scatole Vabbè Perfetto 6 secchiellozzi Dormiamo Che la pioggia Mi ha già rotto Le balle Ah non posso dormire Vabbè Qua abbiamo Dell'altra acqua Quindi direi Di fare Ok abbiamo Un'efficienza Il 22% Ma Biofuel Vedo che Ne sta comunque Facendo A manetta Va bene A noi ce ne servivano 8 bucket Allora Finiamo Così Water clear E ciao Che mi ha già rotto Le balle Facciamo così Non posso Così Ok Biofuel Bucket Lui ne voleva 8 Quindi Delivery Vediamo cosa voleva Questo Ne vuole 16.000 Ok perfetto Facciamo Prima questo Poi Questo E infine Questo Thank you so much Quindi 8 bucket Facciamo così Non so se fa Effetti strani Su di noi La risposta è no Vabbè Dobbiamo Semplicemente Aspettare Ragazzi Vediamo fra un po' Ok ragazzi Concludiamo la puntata Con l'ultimo Secchiellozzo Di Biofuel Quindi Lo mettiamo qua Glielo mandiamo Perfetto Non è Non l'ha fatto Perché non l'hai fatto So strange Allora Nel frattempo Ci prendiamo Uno Anzi Una di queste Un bel Bacchettino Che ci avevo Già Un bot Anipot E un drawer Allora Se sentite Sto casino Sono loro Prendiamo 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 anche La chiave Quella la Della quantificazione Per vedere Quanto effettivamente Fa in fretta Le sugarcane Perché abbiamo Messo 16 bot Anipot Di sugarcane 16 16 16 16 16 16 Quindi Si Mi ero Alquanto Rotto le scatole Di aspettare Le sugarcane Quindi adesso Siamo un po' Più tranquilli Il Kelp Voleva L'acqua Se non sbaglio Vuole 50 secondi Quindi A posto Digital Non so Cosa sia Però strano Che Loni Non l'abbia Fatto Beh Non è un problema Perché Possiamo Fare così Metterlo Qua Dovrei Riuscire A fare Ok Poi Andiamo A prendere Una bella Tank E poi Ovviamente Andiamo A fare Un Delivery No Qua Delivery E voleva 4 secchielli Quindi Questo qua Strano Che non È riuscito A fare La quest Molto Molto Strange Doctor Strange Allora Perché Non me lo Auto Ah Perché C'è L'acqua Ok Vabbè Fluid Conduit Fluid Thank you French Beam E beam Vediamo Oni 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 4000 Millibucket Perfetto Prendiamolo E mandiamo L'altro drone Dai Stavolta Mandiamo L'altro Ok Main Now Vable Digital Miner Oh Thank you So much Mille No Ma Sinceramente Il Digital Miner Con tutte Le cose Che stiamo Ottenendo Non è Che mi Interessi Più Di Tanto Vediamo Se Adesso Riesce A Beccare Finalmente Riesce A fare La quest Dell' Oni Vediamo Mentre Le Kelp Vabbè In realtà Potrei andare A raccoglierle Io E cuocerle Tranquillamente Però vabbè Non c'ho voglia Vediamo Quanto tempo Ci metti Gigi Il fatto è che Allora Aspetta un attimo Dormiamo Magari Che è meglio Che il tempo Ogni volta Ogni tre Secondi Praticamente Deve piovere Qua Vediamo Ancora niente Del drone Niente Ah è più lento Dell'altro Quindi ovviamente Ci mette un po' di più Speriamo che Non mi rispunti Un'orda zombie Un'altra volta Dai dai Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ma in teoria Questo è Oni Quindi Oni Resus Fubi Oni Cos'è l'altro? Vuoi vedere che Vuoi vedere che Non vuole quello Ma questo Che palle Cioè io Ci ho buttato Un po' di roba Mi sa E qua ne abbiamo Quindi potrei Tranquillamente Farlo Immediatamente Allora Facciamo delivery Quindi concludiamo Con il miele Oppela 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 Poi Fluid Pipe La branch Ce l'ho Queste sono 4k Quindi Ok Orde zombie Non ce ne sono Perché Ho pensato Per un attimo Fosse dovuto Al fatto Che Avessimo magari Sbagliato il miele Ok Facciamo così Adesso dovrebbe essere Quello giusto Tieni Castle of glass Vuole Ok si sta caricando Vabbè scaricherà Vuole 256 di glass Ma ragazzi Il tempo a nostra disposizione È finito Spero che la serie Vi stia piacendo Come sta piacendo a me Alla prossima Alla prossima